benvenuti ragazzuoli benvenuti in nuova diretta nuovo diretta nuovo video basato su elden ring il mio viaggio sull'interregno che ovviamente non sono da solo perché mi cago addosso ok c'è con me sempre mio super amico rocco che è qui con me che mi manda al macello ok però però è buono dai mi fa mi fa sopravvivere è un amicone proprio un amicone ciao a tutti ragazzi tornati nell'interregno esatto esatto andiamo avanti perché andiamo avanti su james ha fatto alcune cose senza di me dunque riprendiamo le cose che ha fatto lui esatto da farvi vedere cosa 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 avete saltato ma in realtà poca roba perché alla fine diciamo che ha fatto un po più di esperienze basta unica cosa è che adesso vedrete lui come spirito e da una mano a me a recuperare certe cose che io l'ultima volta non ho preso esatto cerchiamo di andare avanti insieme diciamo quindi questa parte qua l'avete già vista ma non avete visto quello che succede dopo quindi ci prendiamo un attimo di tempo per poter prendere il segnale che ha preso james e poi andiamo avanti nella catacomba che forse vi avevamo accennato l'altra volta che però non avete visto e dopo di che potremmo provare ad andare a no finiamo la l'altra volta se giro perché più agguerriti più cazzuti e esatto credo che appare chiappolo da andato moto c'è ridato anche una pozione quante pozioni hai adesso 22 ok se non sbaglio quando sei spirito delle di mezza per difetto quindi appena avremo sei pozioni quando andiamo uno nella nella partita dell'altro dovremmo averne poi tre ok tu sei partito aspetta ok non avevo visto che c'era sto stordito facciamo anche in fretta a farlo fuori allora il pugnale che hai tu fa un danno esagerato soprattutto un danno da da sanguinamento che fa paura proprio paura quando entra a sanguinamento con questo pugnale i danni si vedono proprio pesantemente e la stessa cosa la fa questo falcetto di merda che ho io allora preso anche il falcetto sai esatto ma è meno potente del pugnale e soprattutto per quanto riguarda il sanguinamento causa molto meno danno rispetto al pugnale che tu quindi direi che andiamo a far arrivare questo spirito maledetto speriamo di riuscircela a fare nella prima prima non dai al primo tra vogliamo subito indietro perché tanto dovrebbe arrivare di qua a fammi curare la vita e 10 da dietro ce l'è dietro sta arrivando lo so che ce l'ho dietro lo sento la presenza dietro viene verso di me si è quasi si è quasi appoggiato occhio vai 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 dietro curati la vita curati la vita vai 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 adesso curati dobbiamo aspettare che arrivi l'altro e che cazzarola bro dai cazzarola io volevo risparmiarmi con le cure allora se se tu sei qua in teoria se fai il simbolo da qualche parte qui io ho il tempo di 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 no vabbè mi ha fatto fuori mamma mia 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 mi ha devastato malissimo dai 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 guarda è la minchiata che io adesso sono lontanissimo che palle ok ok si spera trini qua e leviamo dalle scatole addirittura stato allora quei due di che arrivano da di me li metto sempre dai però è arrivato proprio con la lancia che è andato se comparirà ottimo bene andiamo io faccio fuori quello con la balestra va bene quanto ti manca per la rusa va bene non le diciamo perché facciamo scoprire poco per volta gli altri cosa cosa si trova in quella catacomba la yes quindi niente non diciamo più nulla quale catacomba quella che stava facendo l'altra volta che hai fatto c'ho una freccia come va cos'è che è c'ho una freccia tirano tirano frecce che sembrano ombrelloni come come diceva al mare proprio il buon vecchio del prude e allora adesso arriva a james corriamo subito dall'altra parte ci siamo più vicini a al tizio al tizio si va che sei più vicino al tizio e magari si dà una svegliata un po prima ad arrivare e li vieni ti aspettiamo fare come corre guarda guardano vado con l'infame ma è detto che scopi una freccia a scopi una freccia di una cartella comincerò a guardalo che la evita neo in the matrix bastardo figlio della merda dai dai ora che anch'io ce l'ho sanguina madosca madosca che mai quasi ucciso fu entrato è entrato l'ucciso abbiamo devastato l'ucciso bene porca di miseria e e beh ragazzi niente vabbè io e james ci abbandonare no non ci abbandoniamo andiamo avanti e no un cavolo però perché dentro c'è una entrare qua qui c'era lo scrigno con il fumo se non sbaglio ok no niente allora c'è io e james dovremmo abbandonarci sicuramente perché perché adesso arriveremo davanti alla catacomba che dobbiamo ancora fare e la catacomba lì ovviamente se siamo in coop non possiamo entrare insieme perché il den ring è diviso in macro aree esatto e tu entri per finire il boss di un'area è fatto un pochino così dai è fatto un pochino col culo ecco lo volevo dire ma non voleva dirlo ma è sotto sotto voleva voleva dire quello l'ha pensato profondamente nel frattempo io raccolgo oggetti che l'altra volta non ho preso si ok eccoli qua ah no no questi qua io mi devo allontanare perché mi assagrano però gli scheletri li facciamo fuori abbastanza velocemente ma è che io ho trovato già l'altro sempre comodo anche perché a me ne servono 3000 per arrivare a fare i tre livelli che mi servono per l'arcano pacca 3 non muori ed è andata ho i blob qua ok andiamo quindi io ti abbandono tu adesso quando vuoi mi abbandoni e ci vediamo dentro la catacomba yes aspetta che devono essere sti blob maledetti si devi usare il dito storto non so cosa devi usare il tranciadito bravo allora ce l'ho il tranciadito no è direttamente su start multigiocatore trovi tutti gli oggetti e il multigiocatore lì oh ma va a cagare ok hai finito te allora e no ok io torno nel mio mondo va bene vediamo dall'altra parte yes uso subito il viaggio rapido così arrivo subitissimo ok apro la catacomba poi metti il dito vicino al falò e io ti evoco yes grazie grazie si chiama grazia non falò si vabbè siamo mica su dark souls esatto allora messo 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 ok non hai notato la mia paglia che mi sono messo dietro no aspetta che non ti vedo sai non ti vedo è dietro è dietro proprio la grazia segno ah ok ok insomma mi sono fatto ho modificato il mio vestito diciamo questa belliccia ah che bella io invece non c'ho niente ho solo dei lividi sulla schiena guarda che belli che sono allora aspetta qua ci sono due statue una subito a sinistra io non me la ricordo eh qua subito a sinistra poi arriva un'altra attento in alto e si in alto ne ho già vista una un'altra è già scesa eh si esatto una è andata l'altra anche allora tocchiamo il bacino di evocazione un attimo spiegami i bacini che non mi ricordo mai cosa non lo so perché tanto uno ci possiamo evocare lo stesso secondo me servono per evitare o gli npc o gli altri giocatori che vogliono farsi trovare per fare i boss ok allora aspetta un attimo questa l'ho fatta l'ho fatta c'è una trappola in fondo c'è una piastrella che butta i dardi si ok 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 me la ricordo e in fondo ci sono due simpaticoni allora tu nasconditi basta fare così qua venite venite ah gli fai lo scherzetto eh si certo oh quando avete finito di fare le gemelle Kessler occhio ci sono tre dai che attivo la trappola via perfetto allora vi è piaciuto lo scherzetto lo rifaccio aspetta 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 ahah mi ha preso ha una freccia in focata nella testa eh si esatto io nel frattempo sto facendo il peerless sto per morire continuo ad avere dei darti piantati ovunque allora mi avete un po' rotto le palla adesso sa si va a cagare tra due proprio a morire frecce 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 via 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 Ok, perfetto Sono molto pericoloso quando ci sono le trappole L'avverto, signor Bond Ok, ok Ma veramente c'è qua la La cosa per aprire? Siamo sicuri? Attento adesso Che giù Ce ne sono due E c'è ancora un'altra trappola Qua c'è di nuovo Ho capito che Ma anche qua dietro Si attivano degli stranzi Se non sbaglio Parti sì, ci sono tre Vabbè, andiamo avanti Dove devo mettermi? Eh, non lo so Tu stai sempre lontano Perché io mi diverto con queste trappole Non farti morire Uno è già quasi morto Lo uccido Un altro che sono io Sono quasi morto Curati, occhio l'altro M'ha fatto sanguinamente Eeeh Eeeh Pagliacci No No, che pirla Ho intipato le trappole Però sono morto Cacchio Vero che non ce la faccio proprio io Puoi andare direttamente al boss Diciamo Sì, sì, più o meno sì Era quello che pensavo di fare Ma Non so Se solo non mi fossi dimenticato Che C'era già gente qua davanti Oh Scemo di merda Ok Andato Dai, andato Vuoi fare una corsetta E vai diretto Aspetta che qua c'è Lo stronzo Ok Lo stronzo Ok, buono No, voglio uccidere Quei due che mi hanno ucciso Perché non solo meritano Di stare lì Questi infami Merda Allora Dico Ma James Sono un cretino Cosa Sai, è vero Allora uccidiamo ancora questi Uh, occhio, occhio E lo so che ci sono Allora Uccidiamo ancora questi E poi dovrò farti sprecare Cioè dovrò sprecare di nuovo un fiore Ah, per Per Così almeno il boss Lo facciamo che io ho il pugnale Ok Quindi uccidiamo ancora tutti questi qua In modo da assicurarmi di Oh, mamma mia Sì, sì, arriva, arriva Ok, siamo al posto Perché se entriamo lì dentro Poi perdo le rune Non riesco più a prendere Ah, sì, è vero Allora facciamo ancora Questi Questi storditi qua Come al solito Occhio che attivo la trappola Vai Occhio E devo Corrarmi la vita Fini qua No, questo è quasi morto E va a cagare Dai che mi hai lasciato Niente Petra di forgiatura Allora vi piace No, state lì, vai Sbam, sbam Sbam La schiena Ancora? E allora sbam Ok, è andato Vai 3555 Potrei Dai che mi potenzio anch'io Potrei Forse fare un livello Anzi fare tre livelli Però non credo Perfetto Torno nel mio mondo? Vai, torno nel tuo mondo Facciamo quello che dobbiamo fare Posso usare anche io Beh, fatto tu dai Ok, allora Ok ragazzi Si va a fare il boss Yes Carichi E si va Carichissimi Quindi io direi Di andare Corsa diretta Sì Si entra dritti Sì, vai dritto E senza Curartene Allora però aspetta Partiamo insieme Perché se parto io Loro si attivano E poi seguono te Quindi aspettiamo un attimo E andiamo 3, 2, 1 Via Vai Vada, vada, vada Vada, vada Cazzo Andi qua che devo girare L'ho presa larga Ok, trappola L'ho presa larghissima Vai, vai, vai Se io passo Non ci castriamo Vai, 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 vai Mi fa entrare Ho finito la stamina Corri, vai Ho attraversato Ok, posso andare Ecco qua Il Kratos dei poveri Eccolo, eccolo Speravo di trovare queste armi Occhio, occhio Attento Sono morto? No Quasi Quasi Curati subito Uh, è entrato il seguinamento Eh, non ho visto che è entrato Apriamoci subito tante volte Vieni qua, vieni qua, cancaro Vieni qua, vieni qua Ancaro Ancaro Bene Bravo Eh Quando arriva la Uh, è entrato di nuovo? Adesso è entrato di nuovo Anche il mio deve entrare Che piace Uh Ti piace? Mamma mia Non so se gli piace Come mi diverto? Ah Sei morto E via È andato ragazzi È andato Semplicissimo Semplicissimo Occhio Oh, che cacchio è Brutti strozzi È stato di merda I nemici che abbiamo richiamato prima Ahia, cazzarola No, te ne sei pure andato te Eh Che cazzarola Che cazzarola Dai, ho io o te Ciao a chi muore prima Eh, io so Io sono andato fuori Eh, lo so Lo so Eravamo rimasti solo io e lui Ok, va bene Quindi Bellissima sta boss fight Mamma mia L'abbiamo devastato Sono quasi intenzionato di andare a farmare Io direi che il cavaliere che ci ha inchiappettato ieri Lo distruggiamo Sì, sì, sì Dai Sì, sì, sì Allora Vado Vado diretto alla catacomba iniziale Vai Eh, dove era? Eh, non primo passo Sì, primo passo era, vero? No, cimitero abbandonato Cimitero abbandonato Andiamo al cimitero abbandonato Io direi che ci troviamo più avanti Direi Quando cadi Ci troviamo dopo la Dopo la parte del coso Sì O vuoi andare direttamente là sotto No, eh, quando Io direi di quando cadiamo Oppure dopo il veleno Come vuoi Dopo il veleno Dopo il veleno Dai, così ci facciamo Ok Velocemente tutto il resto Tu metti il dito Sto andando Hai visto il vaso che ti dicevo ieri? Sì, sì Ma a me non serve Quindi vado diretto